Ciao, in questo video vi voglio parlare di una Eco Bio Box, quindi una borsetta, questa in pratica, una borsa regalo che ha all'interno dei prodotti Eco Bio per la cura del corpo, dei capelli, del viso, insomma, quindi cosmetici naturali in pratica. Questa borsetta io l'ho acquistata sul sito primobio.it, che è un sito che vende cosmetici naturali, è un sito che non è nato da tantissimo tempo, comunque io ho voluto sperimentare questo acquisto per vedere un attimo di cosa si trattava, per vedere se potevo consigliarvelo oppure no. Allora, questa che cos'è? Questa è la borsetta che si riceve a casa, si ordina appunto sul sito primobio.it, io l'ho pagata 14,80€, ma ci sono tre tipologie di box, ok? Di regalo, quindi di borsetta. Praticamente io ho preso quella che costava meno, in cui in teoria all'interno ci dovrebbero essere tre full size, quindi tre prodotti di grandezza normale. Io ho letto che ci dovrebbero essere dei campioncini o altri regalini, insomma. Ecco, comunque, detto questo, vi mostro che cosa c'è all'interno. Io l'ho già aperta, però in realtà ho utilizzato solo un prodottino, perché ne avevo bisogno in questo periodo. Da quando sono stata operata al ginocchio non riesco a prepararmi i cosmetici in casa, come facevo prima, quindi solo cose molto, molto basilari, molto, molto semplici. Allora, cominciamo. Vi ho aspettato anche per mostrarvi proprio in diretta, insomma, quali sono i prodotti all'interno. Allora, partiamo da... vi mostro subito quello che io ho già provato, così almeno. Allora, io ho provato questo burro cacao della marca Eco Cosmetics, è al melograno e all'olio d'oliva. A me è piaciuto molto, perché ha la forma di un rossetto, di un balsamo per le labbra, e poi lascia le labbra molto morbide per molte ore, e anche, secondo me, ha un buon profumo. Quindi sono contenta del fatto che mi abbiano mandato un burro cacao per le labbra, perché non guasta mai. Tra l'altro, sul sito, una volta acquistata la box, insomma, chiedono di compilare un questionario in modo da poter ricevere a casa, diciamo, i prodotti che più vogliamo, insomma, adatti alla parte del corpo che ci interessa di più. Ad esempio, ho richiesto soprattutto prodotti per il viso, perché, insomma, volevo provare nuovi prodotti per il viso, quindi mi è arrivato il balsamo per le lantra. Poi, comunque, non è che se io richiedo solo prodotti per il viso mi arrivano solo quelli, insomma. Però, se c'è la possibilità, magari può essere che preferiscono mandare quelli, ecco. Altro prodotto che c'è dentro è questa crema soffice per il corpo con olio di mandorle dolci. È una crema della marca Cosmopharma, ci sono 200 ml di prodotto. Infatti, come secondo ingrediente, dopo l'acqua, c'è l'olio di mandorle dolci. Gli ingredienti li sto leggendo adesso, per la prima volta. Quindi, glicerina, c'è anche la vitamina E, c'è il burro di karité, pantenola, lantoina. Insomma, una classica crema idratante per il corpo. Di questo, sinceramente, a me il profumo non fa impazzire. Io ho provato a metterne un po' sulla mano e devo dire che idrata bene la pelle. Però, il profumo che lascio a me non piace molto, sinceramente. L'annuso anche insieme a voi. A me non piace tanto, mi dispiace. Sa un po' di cedro, limone, cedro, ma non limone, perché a me il profumo del limone piace molto. Insomma, è un profumo che non mi fa impazzire, ecco. Quindi, io riprovo, perché... Insomma, sembra, sa un po' di latte, non molto buono. Vabbè, comunque non voglio incentrare il video sull'odore o il profumo di questa crema. Insomma, comunque, idrata molto bene, solo che il profumo non fa impazzire. Ma siccome dopo un po' di tempo va via, la utilizzerò tranquillamente anche sul corpo. Quindi, va benissimo. Così sono contentissima, comunque, di averla ricevuta. Andiamo avanti con gli altri prodotti. Allora, qui vedo un Mineral Blush. Devo ancora aprirlo. Adesso proviamo ad aprirlo. Se non mi va dappertutto, perché io sono veramente brava nel far cadere le cose. Il colore sembra un colore pesca, abbastanza scuro, comunque. Mi piace, mi piace il colore. Quindi, insomma, ecco. Questa è della marca Waga Waga. Eccolo qui. Non ho mai provato prodotti di questa marca, quindi sono molto curiosa di provarlo. E questa è la terza full size, quindi non campioncini, ma proprio cosmetico, vero e proprio. Vado a prendere anche l'altro prodotto. Mi sembra che ce ne sia solo uno ancora. Sì, ok. Non sbaglio. Metto giù la borsetta. Ed è questo carinissimo astuccetto con la scritta fashion. Molto, molto carino. Con delle belle illustrazioni. Ci sono delle scarpe, c'è un vestito, un profumo. Insomma, molto, molto carino. Questo astuccetto penso che posso tornarmi utile anche quando magari devo portarmi via qualcosa in borsa. Magari qualche rossetto, qualche ombretto. Allora, all'interno c'è questo balsamo delicato, sempre della Cosmofarma. Della Biovera. Quindi c'è sia Biovera che Cosmofarma. SRL. Comunque, questo penso sia il campioncino da 30 ml del balsamo per capelli. Un balsamo delicato. Io non l'ho provato e sono curiosa di provarlo e poi vi dirò sicuramente che cosa ne penso. Però, facciamo qui la prova del profumo. Un profumo piuttosto neutro in realtà. Perché non sento profumi. Non ho raffreddore. Allora, il profumo non si sente tanto, è molto delicato. Però, quando si sente, devo dire che è molto buono. Mi ricorda le spiagge, il mare, l'estate. Mi ricorda un po' i dopo sole, il cocco, il mono. No, in realtà, magari nemmeno c'è il cocco all'interno del prodotto perché non c'è l'inci scritto. Però, però a me piace proprio tanto. Mi ricorda un po' il cocco. Comunque, in generale, la spiaggia. Mi ricorda proprio il mare. Poi, chiaramente, sui capelli si sentirà sicuramente di più. Perché, ovviamente, io ne ho preso pochissimo di prodotto giusto per sentire il profumo. Che è molto, molto delicato. Poi vi farò sapere anche come mi troverò con questi prodotti. Quindi, mie care, prendo la bozzetta. All'interno non c'è nient'altro. Cioè, c'è il bigliettino da visita, praticamente, del negozio. In cui, la ragazza o le ragazze che gestiscono questo negozio, mi hanno scritto Ciao Martina, o mi ha scritto, perché vedo che è di Deborah. Ok? Deborah è il nome della ragazza. Ciao Martina, grazie per il tuo ordine. Nella box ti ho inserito una crema consigliata per ogni tipo di pelle. E ideale anche come dopo sole, viso e corpo, ora che arriva la bella stagione. Più una nostra esclusiva make-up e un lip balm. Quindi, grazie mille Deborah. Sono veramente dei prodotti carinissimi. Secondo me, effettivamente, il costo di questa box è inferiore rispetto alla qualità e al costo effettivo dei prodotti. Perché sul sito c'è scritto, praticamente, che i prodotti che si ricevono a casa, tramite questa bio box, costano di più rispetto al prezzo che paghiamo noi per la totale bio box. Quindi io ho speso 14,80 e ci sono altre due varianti di ecco bio box che costano un po' di più. Chiaramente, invece di tre prodotti full size, magari ne avrete cinque, oppure avrete più campioncini. Effettivamente, insomma, arrivano dei buoni prodotti. Quindi, se vi va di provarla, secondo me, fate una bella scelta. Quindi, io penso che più avanti l'ordinerò e regalerò questa bio box a qualche mia amica, sia per il compleanno che per, insomma, così, per farne un regalo. Perché io mi sono trovata molto bene, sono contenta, i prodotti che ho ricevuto mi piacciono molto. E quindi, insomma, in generale sono molto soddisfatta di questo acquisto. Quindi ve la consiglio. Fatemi sapere se già avete provato questo tipo di servizio, chiamiamola così. Io vi mando un bacione, spero di aver ritenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere se avete già provato, oltre a questo servizio, anche i prodotti che mi sono trovata io all'interno della mia Eco Bio Box. Anzi, primo Bio Box. Io vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!